ciao benvenuti a tutti e benvenuti alla nostra prima live del 2024 oggi è il 4 di gennaio e domani il 5 di gennaio iniziano i saldi autunno inverno quindi la live di oggi è per voi e per consigliarvi cosa acquistare in saldo ci sono due motivi principali per acquistare in saldo per necessità cioè ho bisogno di sostituire un capo che ho rovinato un capo che sta terminando la sua vita perché mi piace così tanto che l'ho consumato di solito vengono da me le clienti mi dicono così oppure per convenienza cioè un capo che non ha stagione quindi un completino intimo non ha primavera estate autunno inverno un completino intimo è sempre un completino intimo oppure per il prezzo per il grande vantaggio ho già tanti completi ho già tanti pigiami ho già tanto abbigliamento però guarda a un prezzo così conveniente che non posso lasciarmelo scappare ora vi saluto vedo che vi state collegando quindi vi ripeto perché acquistare in saldi anzitutto acquistare in saldi da capogiro 2 acquistare saldi da me significa acquistare con saldi di qualità perché perché voi da me trovate in saldo gli stessi identici capi che avevo prima nella stagione regolare quindi trovate gli stessi brand gli stessi marchi e gli stessi prodotti se avrò ancora la vostra taglia sarete fortunati altrimenti magari potrete scegliere un altro articolo vi dico anche subito che sabato 6 gennaio sarò aperta per saldi inizio subito subito salutando le ultime persone che si collegano e vi dico quindi perché acquistare in saldo da capogiro 2 perché i miei sono saldi di qualità hai bisogno di sostituire un capo vuoi un capo in più troverai sempre dei prodotti uguali a quelli che c'erano prima io non acquisto capi per fare i saldi noi abbiamo in saldo davvero i prodotti che restano al termine delle vendite di natale e di capodanno quindi inizio subito con l'aiuto di miscela farvi vedere pantofole le prime pantofole che vi mostro guardate che belle quindi sono ciabattine aiuto ciabattine con ecopelliccia che voi avete visto durante tutte le live precedenti sono tutte scontate ci sono in tre colori grigio nero e fucsia antiscivolo e soletta se volete c'è anche il calzerotto il lurex da abbinare c'è guardate fantastico questo calzerotto in quattro colori quindi la ciabattina in ecopelliccia le ballerine per chi ama le cose più chiuse la ballerina chiusa io vi faccio vedere alcuni articoli ma queste ballerine le ho tinta unita e diverse fantasie tutte con antiscivolo e in due versioni suola rigida o suola morbida e poi michelle ti rendo questa sta arrivando il freddo se avete ascoltato i telegiornali arriverà il freddo 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 quindi stivaletto con ecopelliccia suola imbottita semirigida per ripararvi dal pavimento e in abbinamento calzerotto caldissimo in confezione bipec cioè ce ne sono due e anche questi sono scontati sono gli stessi articoli che voi mi avete visto nelle precedenti live però ci sono pochissimi pezzi quindi affrettatevi e soprattutto i saldi iniziano da domani venite da subito ad acquistare così avrete più assortimento ora ripasso questo michelle grazie poi arriverà il grande freddo quindi cosa non potete non acquistare se avete freddo un bel pigiama caldo in micro pile di viscosa c'è in tanti colori c'è in blu c'è in bordeaux c'è in diverse taglie quindi scrivetemi per sapere le taglie e colori disponibili mi scrivete la vostra taglia io vi rispondo di donna lingerie made in italy sono gli stessi pigiami che avete visto nelle live precedenti questo c'è rosa malva c'è color tiffany c'è blu e c'è anche rosso tutti i miei capi bellissime che avete già visto in saldo quindi pigiama caldo se invece volete un medio peso questo dieta lingerie sempre made in italy guardate che carino pantalone con i cuori e giacca panna con l'inserto che riprende i pantaloni che invece non avete per niente freddo meraviglioso micro modal e viscosa con il tulle ricamato donna lingerie made in italy quindi gli stessi gli stessi identici articoli che voi potete vedere dalle precedenti live li trovate adesso in saldo pochissimi pezzi quindi mi raccomando non aspettate se vi piace questo tessuto sempre nel micro modal ci sono anche le camicie da notte quindi se anche dovete fare un regalo o se voi utilizzate la camicia da notte c'è il colore carta da zucchero c'è il colore blu se invece avete freddo e anche con le camicie da notte voi volete qualcosa di più felpato c'è anche la versione sportiva la versione sportiva sempre di donna lingerie made in italy in cotone melange con un po di felpatino all'interno quindi ne abbiamo davvero per tutti i gusti questa qua invece in micro modal aveva anche il tulle ricamato inserito quindi perché non acquistare un capo in saldo guardate che prodotti belli e soprattutto e soprattutto capi molto versatili questa tuta in ciniglia che voi avete visto sfilare a novembre la mia sfilata anniversario ne ho due pezzi e sono in saldo color ottagno luna di seta made in italy meravigliosa in ciniglia tutto made in italy sia il tessuto che la confezione con il cappuccio guardate questo è un vero completo leisure time potete utilizzarlo in casa o anche come capo di abbigliamento per uscire con una sneakers il pantalone alle tasche questa è un miracolo mi sia rimasta dopo natale perché piaciuta tantissimo quindi ne ho due pezzi se volete venire a trovarmi o se volete posso anche spedire in tutta italia quindi non preoccupatevi perché abbiamo il nostro corriere di fiducia altri capi che non possono mancare contro il freddo sono le vestaglie e voi sapete che queste vestaglie sono tutte made in italy guardate che bella sembra un capottino volendo anche la sua cintura quindi sembra davvero un cappotto sempre etel lingerie made in italy tutte lavabili in acqua io vi propongo un color panna perché lo trovo molto bello molto raffinato però le abbiamo in blu e abbiamo in bordeaux ci sono grigie con la zip quindi vestaglie ne abbiamo venite a trovarmi avete bisogno di una vestaglia nuova volete inserire nel vostro guardaroba una vestaglia e adesso momento giusto approfittate dei saldi se invece amate la vestaglia lunga lunga è lunga lunga guardate che lunghezza ora ve la faccio vedere guardate che bella lunghezza questa sembra un cappotto meravigliosa caldissima caldissima in file di viscosa tutta made in italy donna lingerie made in italy anche questa disponibile in blu in questo rosa col profilo grigio in sabbia o ecru col profilo beige con tutte le maniche bordate ed anche le tasche bordate guardate che bella con indosso questa veramente vi sentirete coccolate stupenda questa vestaglia quindi per quanto riguarda la lingerie non potete perdere l'occasione di acquistare questi capi in saldo vi aspetto già dai primi giorni se avete freddo abbiamo dei bellissimi pigiami caldi vi faccio un recap caldissimo medio calore leggero tutti in vari colori e io vi ho preso tutti i colori tendenza però ci sono in vari colori le camicine la tuta stupenda stupenda di luna di seta questo veramente un capo da regalarsi e poi le vestaglie sia lunga che corta abbottonata ora cosa manca ragazzi l'intimo o guardate che carrellata di completi o qua dietro quindi le collezioni moda tutte le collezioni moda sono in saldo ogni tanto mi chiedete francesca ci sono le collezioni moda per le curvi si ho anche la collezioni moda per le curvi guardate ragazze per esempio la collezione l'isca l'isca lingerie in tulle ricamato vi faccio un esempio questo è una 95 coppa e è un blu in tulle ricamato tutto scontato con il suo slip sempre in tulle ricamato con l'inserto anche questa è un'occasione da non perdere questa è disponibile dalla 75 la 95 coppa di coppa c di e de non ci sono tutte tutte le taglie disponibili però scrivetemi per sapere se ho la vostra taglia altra collezione che è piaciuta tantissimo è questa di verdissima ora mi avvicino con questo manichino perfetto guardate anche questa la sfilata del 9 di novembre un top con la culotte tutta in pizzo di verdissima anche questo adesso in saldo ve lo vestito sul manichino per farvi vedere guardate che bello questo è un crop top che si può usare anche come sottogiacca altro colore di tendenza per la stagione è il terracotta sicuramente la ragazza che indossa questo color terracotta non mette il lilla quindi sono due palette cromatiche completamente diverse però voi sapete che adesso io faccio anche il servizio di armocromia quindi il negozio delle collezioni moda scontate in saldo troverete tantissimi modelli ma soprattutto anche tanti colori in base alla vostra palette per esempio del terracotta questo è un push up terracotta o ancora anche un completo top culotte come questo qua lilla questo è un ferretto con slip ve lo faccio vedere più da vicino guardate che bello ferretto con slip anche questo in saldo sempre di verdissimo se poi voi volete comprare come vi ho detto prima non perché volete inserire un colore in più nel vostro guardaroba nel vostro cassetto dell'intimo perché avevate visto le foto la diretta e adesso volete acquistarlo in saldo come giustamente succede ma desiderate semplicemente aggiungere nel vostro guardaroba non per necessità ma per convenienza un completo in più un panna un bianco non può mancare perché sotto una blusa in seta come la mia completino bianco perfetto quindi sempre della collezione moda autunno inverno ho questo bianco seta con pizzo e con delle piccolissime costine questo disponibile in panna ed anche in grigio in svariati modelli questo è un completo da acquistare per avere un capo in più che voi metterete anche questa primavera estate perché è un intimo e soprattutto per la convenienza alcuni di questi completi che vi ho fatto vedere potrebbero essere già al 50 per cento già da subito perché perché è l'ultimo l'ultimo completo della serie è sempre già al 50 per cento se invece volete acquistare un intimo per aggiungere qualcosa di estroso di particolare che non avete nel vostro guardaroba allora guardate qua la collezione burlesque con la collezione burlesque o collezione seduction per esempio ho dei completi o dei reggiseni sfiziosi un po particolari questo è un reggiseno triangolo coi fiocchetti aperto ed anche questo è in saldo perché sono gli ultimi due capi quindi se normalmente non acquistereste a prezzo pieno una cosa così particolare ma volete aggiungerla nel vostro cassetto o vi piacerebbe come regalo adesso è il momento giusto perché perché sicuramente avete la convenienza vi ricordo però che di questo completo di verdissima ho solo due pezzi vi faccio vedere anche un altro completo da acquistare sicuramente sempre per il discorso della convenienza grazie michelle un completo che non ha stagione è questo questo completo bravissima questo è un reggiseno di l'isca lingerie con abbinata la sua culotte c'è anche disponibile la brasiliana dopo ve la faccio vedere questo è un nero con dettaglio gioiello copa preformata e pizzo applicato sopra non ha stagione lo acquistate ora e lo mettete quando volete questa è la sua culotte mi prendi anche la brasiliana michelle che la pesa vedete che siamo proprio in diretta vedete questa è la sua culotte con l'inserto tutto in pizzo e poi c'è anche la brasiliana ti do anche questo michelle grazie la brasiliana ve la faccio vedere sempre tutta in pizzo questo dietro e questo davanti quindi perché acquistare in saldo perché è conveniente perché voi da me troverete gli stessi prodotti che ho nella stagione regolare fino al 31 di dicembre semplicemente gli ultimi capi li troverete scontati quindi cosa resta ragazzi da farvi vedere qualcosina di abbigliamento sapete che io vendo anche qualcosa di abbigliamento cosa non può mancare in questa stagione la tendenza come sempre oltre ai pantaloni normali e legge normali di filet matignon euro blu che voi sapete potete trovare da me sempre cosa vi propongo in saldo cosa conviene acquistare le copelle le copelle io ce l'ho disponibile in due versioni quindi la versione che voi conoscete già quindi la versione lucida con tessuto termico pelpata e poi la versione con effetto camosho bellissima quindi pantaloni o leggis da acquistare sicuramente in saldo sono dei pantaloni che o avete già acquistato in stagione e volete riacquistare perché c'è un colore moda rimasto che vi piace o perché c'è questa convenienza oppure oppure dei pantaloni che normalmente non avreste acquistato ma sono talmente convenienti che ora mi vale la pena che cos'altro vale la pena di acquistare vale la pena acquistare la maglieria vedete noi abbiamo qui la maglieria di filet matignon questo un gemello misto cashmere che in prezzo di saldo è estremamente conveniente cardigan e gemello sotto mezza manica in vendita coordinata o in vendita anche separata e poi se non avete bisogno di qualcosa di molto molto caldo trovate le maglie in micro modal con collo a lupetto morbido quindi che non stringono anche queste di filet matignon in svariati colori fanno una bordeaux grigio perla nero nero immancabile anche questa qua nera immancabile per cui gli ultimi capi che vi consiglio di acquistare se non vi serve intimo se non vi servono pigiami non vi serve lingerie sicuramente un pantalone o una maglia sopra perché sono molto versatili anche quali li ho in diversi pesi quindi potrete sfruttarli tranquillamente fino a questa primavera quindi riprendo il mio cartello dei saldi vi aspetto ragazzi e ragazze per i saldi per le collezioni autunno inverno vi ricordo che i saldi sono sulle collezioni moda quindi non sui prodotti continuativi i saldi sono sulle collezioni moda ma la cosa bella che sono su tutte le mie collezioni moda uomo e donna e soprattutto su tutti i capi che avete già visto nelle mie stories nei miei reel nelle mie live tutto quello che è rimasto è scontato quindi mi raccomando sono pochi pezzi per ogni articolo non fateveli scappare perché da me troverete sempre la qualità il brand e la convenienza quindi non vi serve nulla di invernale acquistate un intimo perché l'intimo non ha stagione vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto in negozio vi ricordo che sono aperta anche sabato vieni michelle dai salutiamo insieme ciao a tutti vi aspettiamo in negozio ciao 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 ciao